Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Lavorando in Calabria, quali difficoltà incontra svolgendo il compito di dirigente della protezione civile? Incontro tante difficoltà perché la Calabria è la regione d'Italia più esposta ai rischi naturali. In Calabria abbiamo avuto un terremoto poco meno di due anni fa che ha fatto 300 morti. Il terremoto di Lago ha fatto meno di 1000 morti, in Calabria invece no. In Calabria abbiamo avuto terremoti che hanno fatto, quello del 908 di Reggio Messina ha fatto 120.000 morti. Il terremoto qui alla Mezza, a pochi chilometri da qui, ha fatto 10.000 morti nel 1638. E' un lungo, infinito elenco di terremoti catastrofici che hanno fatto migliaia di morti e il cui terremoto più piccolo è sempre stato superiore come numero di morte al terremoto di Amatrice. Quindi in Calabria siamo messi molto male. E poi in Calabria abbiamo anche le alluvioni, abbiamo le frane. E tutto questo, i rischi, sia per il terremoto che per le frane e le alluvioni, è sempre legato, i rischi sono legati alla mano dell'uomo. Cioè l'uomo che vuole, che muore di terremoto perché costruisce le case abusive. Una casa abusive è una casa che non ha nessun progetto. Quando vediamo in Calabria ne vediamo tardi le case abusive con i ferri arrugginiti non finite. Quelle abbiamo l'intonaco non finito, qualche architetto l'ha chiamata non finito Calabro, queste case. Quindi case abusive che ovviamente in caso di terremoto anche di piccola magnitudo crollano. In Calabria abbiamo la bellezza di 142.000 case abusive. Se noi ci mettiamo 4 persone a casa in media, facciamo circa 600.000 persone che abitano in case abusive. Quindi praticamente quasi un terzo dei calabresi vivono, perché in Calabria la Calabria fa meno di 2 milioni di abitanti, un terzo dei calabresi vivono in case abusive. Cioè in case, in caso di terremoto, potrebbero crollare anche per terremoti di piccola magnitudo. Nella rivalutazione dei beni confiscati alla mafia, che ruolo ha la protezione civile? La protezione civile purtroppo non ha ruoli, perché la protezione civile per legge si occupa di gestione dell'emergenza. La protezione civile è come il pronto soccorso, è come il pronto soccorso dove arriva il malato quando non ha fatto prevenzione, quando magari ha fumato 4 pacchetti al giorno di sigarette, oppure quando mangia troppo e quindi quando non ha fatto prevenzione, arriva il pronto soccorso. La protezione civile è proprio esattamente la stessa cosa. È il pronto soccorso del territorio. Noi interveniamo quando è troppo tardi, quando non si è fatta prevenzione, quando dobbiamo salvare le persone, magari sotto un'alluvione, sotto le macerie di un terremoto. Grazie.